Via Capitaneo, Via Priolo, Via Duca d'Aosta. Tutti e tre passaggi a livello nel centro abitato di Palese. Nei primi due non c'è alternativa all'attraversamento dei binari. Quante volte avete visto passare malgrado le sbarre fossero abbassate? Tante volte. In Via Duca d'Aosta il sottopassaggio c'è, ma in molti non lo usano. La storia dei passaggi a livello tra Palese e Santo Spirito è lunga almeno quanto l'elenco degli incidenti nei casi peggiori con vittime molto giovani. Io nel 2005 ho presentato il primo ordine del giorno in Consiglio Comunale. Nel giro di due chilometri abbiamo sette passaggi a livello, quindi una cosa molto grave, ma tenuto conto anche del fatto che transitano 200 treni al giorno. Otto anni dopo Comune e Ragione presentano i progetti redatti da RFI per la messa in sicurezza della linea ferroviaria che taglia il territorio della prima circoscrizione. Nella parte centrale ci saranno la chiusura totale dei passaggi a livello e ci saranno opere ciclopedonabili. E' chiaro che poi all'estremità del territorio si realizzeranno dei cavalcavia pelle auto. L'intervento dovrebbe essere lo stesso che tra due giorni vedrà la chiusura del passaggio a livello di via Mola nel quartiere Madonella Bari e l'inizio dei lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, durata dei lavori circa due anni. Per Palese i progetti devono essere approvati e finanziati. Nel frattempo i consiglieri di circoscrizione del centro-destra stanno raccogliendo firme su un esposto petizione per chiedere non solo opere alternative ai passaggi a livello ma nell'immediato tempi di chiusura più brevi delle sbarre.